Io volevo partecipare perché sono già shiatsuka, quindi pratico già zenshiatsu e volevo ampliare la mia conoscenza. Mi sembra una pratica molto efficace nell'immediatezza e la giornata comunque è andata piuttosto bene. Avviene una verifica immediata in pratica, di tutta la pratica, grazie a questo metodo COCI. Io volevo partecipare per acquisire un'ulteriore abilità per poter aiutare velocemente le persone a togliere i dolori e migliorare la propria condizione. Ho trovato un metodo molto efficace e anche un insegnamento molto diretto. Mi è andata bene per la giornata anche per me. Grazie.